30 dicembre 2023. Madonna di Anguera. Immensi orrori sulla terra. Grande naufragio arriva e la grande nave si spezzerà. Le parole della Vergine Maria risuonano come un delicato sussurro dal cielo, un messaggio divino inteso a guidare i cuori dei suoi figli verso una profonda connessione con il Divino. Attraverso questa manifestazione straordinaria, la Madre Celeste si fa portavoce della volontà del Signore, invitando i credenti a un'esperienza di fede più profonda e a un cammino di dedizione alla verità divina. I suoi messaggi intrisi di amore e speranza illuminano il cammino dei fedeli, incoraggiandoli a piegare le ginocchia in preghiera e ad accettare la volontà di Dio con cuori aperti. Leggiamo il messaggio. Cari figli, sono vostra madre e sono venuta dal cielo per condurvi a mio figlio Gesù. Ascoltatevi. Siete importanti per la realizzazione dei miei piani. Aprite i vostri cuori e accettate la volontà del Signore per la vostra vita. Allontanatevi dal mondo e vivete rivolto al paradiso per il quale solo siete stati creati. Piegate le vostre ginocchia in preghiera perché solo così potrete sopportare il peso delle prove che già vi stanno addosso. Vedete ancora orrore sulla terra. Ci sarà un grande naufragio e la grande nave si spezzerà in due. Soffro per ciò che vi aspetta. Amate e difendete la verità. La vitode di Dio arriverà a voi. Confidate nel Signore perché vi ama e vi aspetta a braccia aperte. Andate avanti senza paura. Questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siate in pace. Grazie per avermi permesso.